Un nuovo progetto, l'ennesimo, per la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti, compostaggio e produzione di biogas, con capacità di ben 89.000 tonnellate all'anno, è stato presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio. La localizzazione è nel comune di Anagni, limitrofo allo stabilimento della Saxa Gress, che risulta proprietaria al 100% delle quote della società proponente l'energia Anagni SRL. L'impianto di cui si chiede l'autorizzazione all'esercizio è per capacità e potenzialità della stessa taglia di quello della società che vorrebbe realizzarlo a Patrica. Assieme sono quasi 200.000 tonnellate di frazione organica dei rifiuti, pari a quasi un terzo della produzione totale annua dell'intera Regione Lazio. Se sommiamo le capacità degli altri impianti in via, esclusi quelli già in esercizio, si superano le 500.000 tonnellate all'anno. Sul caso, tuona l'associazione Civis. L'impatto ambientale, dice attraverso una nota, non è sostenibile dalla Valle del Sacco, che sconta una situazione nella quale le matrici aria, acqua e suolo sono fortemente contaminate. Le conseguenze sulla salute, inoltre, della popolazione sono state ampiamente comprovate da studi epidemiologici, i cui risultati sono incontrovertibili. Aumento di tutti i tipi di patologie e della mortalità per tutte le cause. In questo contesto c'è poco da esitare. Il territorio, per l'associazione, va difeso con tutti i mezzi che l'ordinamento prevede, senza esitazioni, senza compromessi. Civis farà ancora una volta la sua parte intervenendo nel procedimento di via presso la Regione Lazio, depositando osservazioni e memorie come previsto dalla normativa, ed avviando tutte le altre azioni, esclusivamente sul piano amministrativo, per contrastare gli indirizzi e la pianificazione della Regione Lazio e delle altre amministrazioni, volte a trasformare il territorio della provincia di Frosinone in un gigantesco cassonetto della monnezza.